Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 178esima puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi come sempre le principali notizie dal mondo del software libero open source della settimana appena trascorsa. Anche questa, come potete vedere, se mi seguite su YouTube, è una puntata video, quindi oltre a vedere il mio bel faccino potete vedere anche una serie di immagini delle notizie che vado a commentare in questa puntata del podcast. E colgo l'occasione per invitarvi a iscrivervi, qualora non l'aveste ancora fatto, al canale YouTube mi cercate, mi trovate come quello del pacco su YouTube. Quindi fatevi una bella iscrizione se ancora non l'avete fatto, mi raccomando di mettere anche sempre il pollice su come dicono tutti quanti gli YouTube e quelli fighi per far capire all'argotismo di YouTube che è un canale interessante da venire così, in modo tale da consentirmi di raggiungere un pubblico più ampio. Ma apriamo la puntata che sarà una puntata molto breve perché non ci sono state molte notizie postate questa settimana ma sono notizie di sostanza che, so sicuro, come vedete fra poco, mi faranno diventare questa puntata chilometrica perché io parlo, parlo, parlo quando dico che la puntata è breve perché ci sono poche notizie poi la puntata viene sempre più lunga di tutte quante. Apriamo la puntata parlando di Mozilla perché c'è stato il rilascio di Firefox 125.0.1 non c'è stata la puntata 0.0 perché Mozilla si è accorta di una vulnerabilità che era critica e quindi ha saltato più a pari verso la puntata 0.0. E fatemi fare una tiratina d'orecchia a tutti quanti quei colleghi che hanno pubblicato l'annuncio del rilascio di Firefox negli loro antecedenti al rilascio di anche 24-48 ore. Che cosa fa Mozilla? Mozilla carica sul proprio server la versione stabile sempre delle 24-48 ore prima e diversi blog, diversi siti, proprio non è stato rilasciato Firefox quando in realtà non è stato rilasciato perché non c'è nessun rilascio ufficiale, nessun comunicato ufficiale e fanno questo rilascio, pubblicano una notizia di questo rilascio e se la gente va a scaricare quelle versioni molto spesso si può trovare con una versione abbagata con vulnerabilità che magari non sono sfuggite al controllo dell'ultimo minuto prima della finalizzazione del pacchetto e quindi vi ritrovate ad utilizzare qualcosa di potenzialmente insicuro. Aspettate, aspettate sempre che vienga rilasciato ufficialmente aspettate che non ti rilascio e in quel caso poi andate ad aggiornare. Tanto poi se siete sull'utente Windows vi trovate la notifica automatica se siete sull'utente Linux dovete sottostare, diciamo così, al manutentore della vostra distribuzione quindi aspettate il go. Andateci con i piedi di rompo, fatevelo dire da uno che era malato di aggiornite poi non riguarda solo i programmi, anche le distribuzioni. Ma vabbè, quali sono le principali novità? Sono principalmente tre le novità, tre e quattro le novità di questa nuova versione il primo riguarda il supporto per il codec AV1 per Encrypted Media Extension che adesso consente una riproduzione di qualità superiore da parte dei provider di streaming video il visualizzatore PDF di Firefox adesso supporta l'evidenziazione del testo questa è una funzionalità che è in rollout quindi se non l'avete subito sulla vostra installazione aspettate qualche altro giorno perché la stanno facendo l'attivazione scaionata abbiamo poi Firefox View che adesso visualizza le schede appuntate nella sezione Schede Aperte voi utilizzate Firefox View? Io personalmente non lo utilizzo lo trovo molto confusionale, non ci passo mai dalla schermatina fatemi sapere voi se lo utilizzate Firefox View e perché lo utilizzate se lo trovate comodo, in che ambito infine l'altra novità interessante di questa nuova versione è che adesso Firefox blocca in modo proattivo i download da URL considerati potenzialmente non affidabili quindi migliora la sicurezza di Firefox le altre novità andatevi a leggere andatevi a leggere il change log compito e passiamo adesso ad un altro argomento e cambiamo e passiamo a parlare di desktop environment perché c'è stato il rilascio di LXQT 2.0 la nuova major release del desktop environment che è giro passato su LQT in questo momento sto facendo vedere agli utenti YouTube uno screenshot di LXQT 2.0.0 che potete vedere che è stato aggiunto anche un nuovo lanciatore applicazioni con la gestione dei preferiti, applicazioni preinstallate e quant'altro quindi il nuovo menu chiamato Fancy Menu che è migliore ulteriormente l'usabilità di LXQT c'è stata con questo rilascio la migrazione di LXQT 6.6 quasi al 100% completa l'unica applicazione che non è stata ancora migrata è QTQ Terminal che verrà rilasciato ragionamento in separata sede perché sono state riscontrate alcune complicazioni a causa della rimozione delle codifiche legacy del QT6 altra novità riguarda l'introduzione del supporto ai compositori di Wayland per alcuni moduli di desktop di LXQT del file manager nella fattispecie LXQT runner e delle XQT desktop notification però è stato rilasciato la compatibilità con i compositori Wayland che supportano il protocollo Liar Shell come la BWC, Wifi, KGW, Hyperland e Sway il supporto completo a Wayland arriverà successivamente gli sviluppatori pensano di riuscire a portare anzi hanno l'obiettivo di portare la compatibilità a Wayland per LXQT 2.1.0 quindi GG comunque per il team di LXQT che nonostante un team piccolo sta riuscendo in maniera autonoma con poche forze a fare tutta la migrazione a Wayland e ha fatto anche la migrazione a LXQT in maniera rapida e in dopo diciamo così ci hanno messo relativamente poco visto che hanno poca forza lavoro e anche poca bacina di utenze voi utilizzate l'XQT e l'XQT mi sembra quella classica desktop environment da barba bianca come me quindi quegli utenti Linux vecchia scuola fatemi sapere se voi utilizzate nel caso se utilizzate l'XQT se avete anche voi la barba bianca se avete la barba bianca forse potremo trovare una correazione tra le due cose e passiamo adesso ad un altro desktop environment ovviamente quello che mi sta affascinando che ormai da tempo sta seguendo così un po' che non vedo l'ora di provare in forma stabile sto parlando ovviamente di Cosmic il nuovo desktop environment basato sul Rust per PopOS e per tutte quante le altre distribuzioni che vorranno adottarlo Simstem 76 come sempre ogni mese ci rilascia una serie di aggiornamenti ci spiega che cosa è stato fatto nell'ultimo periodo quindi per tenere viva l'attenzione su Cosmic innanzitutto facciamo una piccola questo mese ha fatto una piccola cioè ci ha tenuto a sottolineare una piccola cosa molto importante System 76 su PopOS propina sempre le ultime versioni del kernel di mesa e dei driver soprattutto dei driver invidia in modo tale da consentire a noi utenti quelli smanettoni che abbiamo anche hardware recente di poter avere tutte le ultime migliori in termini di driver e in termini di kernel Linux nella fattispecie è stato introdotto il kernel Linux 6.8.0 che supporta i driver per schede grafiche Intel Xe e Intel Arc nonché i driver per il futuro chipset IMD-Zen 5 oltre che alcune ottimizzazioni di rete e in fase anche di testing su PopOS il kernel 6.8.2 e in mesa 24.0.3 che saranno rilasciati appena pronti che offrono queste nuove versioni delle ottimizzazioni per quando riguarda il gaming su Linux mi piace molto questa cosa di PopOS che ha una base stabile LTS propina kernel driver e quant'altro sempre aggiornati e spinge gli utenti a anche installare applicazioni in formato frattopack per avere applicazioni installate sempre l'ultima versione quindi non legate alla base LTS della distra è una distribuzione che io vi consiglio tutti quanti di provarla fateci un salto provatela perché è davvero ben fatta è davvero molto stabile ma vediamo quali sono gli aggiornamenti della pre-alpha di Cosmic la prima riguarda il supporto taming per le applicazioni costruite con le GTK si GTK3 che GTK3 eh GTK4 scusate come così come per le applicazioni pacchettizzate in frattopack i temi personalizzati adesso saranno applicati alle applicazioni GTK se l'utente ha abilitato l'opzione del tema globale e qui se mi seguite su YouTube state vedendo uno screenshot che vi mostra come viene applicata la tematizzazione al desktop environment sono stati implementati anche i temi di icone personalizzati che si applicano sia alle applicazioni Cosmic che a quelle GTK e qui potete vedere un esempio delle icone humanity quelle di Ubuntu delle prime versioni di Ubuntu mamma mia quanto tempo è passato in azione sia sulle applicazioni nuove di Cosmic che sulle altre applicazioni è stata introdotta anche la funzionalità per passare dalla modalità light a quella dark in base all'ora del giorno sono state apportate una serie di migliorie all'appstore di Cosmic che potete già provare se state su PopOS voi potete già provare Cosmic e anche queste prime applicazioni che sono state completate trovate le istruzioni magari vi faccio anche un posto al riguardo nei prossimi giorni trovate le istruzioni comunque su su github del progetto Cosmic e una delle applicazioni che si può già provare è appunto questo nuovo app center questo nuovo app store che devo dire è fatto bene ha le categorie disposte in maniera ottimale con il gruppo anegro laterale la gestione degli aggiornamenti è semplice ed è molto 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 veloce quindi non vi fa anzi spero che questa applicazione venga portata anche su altri desktop in van perché è davvero ben fatta ed è molto rapido e mi piace se capisce che mi piace è stato migliorato poi il semplificato il trascinamento delle finestre sono state implementate all'interno di Cosmic Settings alcune cose come per esempio la gestione del layout della tastiera per lingue specifiche quindi possibilità adesso è stata aggiunta anche ad esempio di cambiare il nome del dispositivo direttamente all'interno delle impostazioni di sistema sono stati aggiunti suoni e notifiche per la batteria scarica la carica bassa l'inserimento e disinserimento delle cariche a batterie l'implementazione del screen display per la regolazione della luminosità del volume della modalità aereo sono ancora in corso di definizione però le applicazioni quelle cicciose di Cosmic Cosmic Edit che è l'editor di testo il terminale e Files il file manager evidentemente stanno ancora ragionando su qualche cosa di importante all'interno di questa applicazione quindi ancora non sono non sono sicuri del risultato finale di queste applicazioni che sono applicazioni molto importanti per un desktop environment e una cosa molto importante del post di questo mese di System76 riguardante Cosmic riguarda l'apertura alla comunità perché ci sono stati contributi dalla parte della comunità di Cosmic chiedo scusa alcuni contributi interessanti per esempio lo sviluppatore Ryan Branks ha lavorato sui gesti e touch per il passaggio da un'area di lavoro all'altra sull'anteprime delle finestre aperte nel dock sulla massimazione rapida delle finestre sull'allineamento quando si trascina una finestra sul bordo dello schermo quindi ha operato diversi contributi che stanno consentendo di rendere Cosmic sempre migliore un altro sviluppatore indipendente che non vi pronuncio il nome perché vi mettete certi nick Ed Flores che invece ha creato un'applicazione chiamata Cosmic Tasks per la creazione di liste di cose da fare per il monitoraggio dei progressi ed è vero ben fatto interessante anche questa cosa oltretutto ci tengo da sottolineare quelli di PopOS che questo progetto ha consentito al team di System76 di apportare alcune aggiunte fondamentali alla libreria del widget Lib Cosmic e di fornire alcuni contributi personali quindi da cosa nasce cosa e mi piace molto questa cosa del team di System76 del team di Cosmic dall'apertura alla community di seguire la community e seguire anche i contributi della community non come altri desktop e varme che sottococcio e sapete a chi mi riferisco ovviamente ci sono alcune miglioramenti che sono stati fatti a Compositor quindi stanno implementando il Compositor stanno applicando miglioramente correzioni a X-Wayland la stessa in X-Wayland correzioni per i driver invidia cattura dello schermo più affidabile aggiunta dei supporti della tastiera insomma stanno facendo davvero tante belle cose non vedo l'ora di metterci le mani sulla versione finale di Cosmic perché mi sta piacendo un casino voi l'utilizzerete io ve lo dico già da mo io ho un'oponash Cosmic in forma stabile io chiaro tutte le distribuzioni mi butto da sopra e non instago più nessun altro visto giuro lo prometto finisce la mia vita da utente che fa distropping diventerò un utente affezionato di PopOS e di Cosmic ci credete io ci credo ci credo in quello che sto dicendo se non mantengo la promessa mi fulminerà un fulmine no non lo dico perché c'è mal tempo adesso sta piovendo quindi è meglio che non lo dico non si sa mai e cambiamo l'argomento e passiamo ad OpenSUSE perché è stato fatto un annuncio da parte del team di OpenSUSE OpenSUSE Factory adesso a build riproducibili bit per bit la modifica è stata introdotta lo scorso mese nel mese di marzo in queste settimane gli sviluppatori hanno operato gli opportuni controlli del caso sulla distra per rodare il sistema ci vorrà ancora un po' di tempo per la verifica completa dei pacchetti dalle prime indiscrezioni quasi anzi oltre il 95% dei pacchetti sono adesso riproducibili bit per bit ed è una cosa buona interessante perché questa metodologia consente di avere una distra più sicura ed è stato utile adesso nel caso della compromissione di XZ anche non ve l'ho parlato sulle pagine del blog ma anche anche Fedora sta pianificando una cosa del genere di rendere una distribuzione riproducibile bit per bit maggiore dettaglio della metodologia riproducibile bit per bit poi vi lascio il link di wikipedia andate ad approfondire voi e infine ultima notizia di questa settimana riguarda il rilascio imminente di Ubuntu 24.04 VTS che verrà rilasciato la prossima settimana che però sì non ho resistito ho provato a instagare così come potete vedere se mi seguite su youtube vi sto parlando da Ubuntu 24.04 l'ho instagata su macchina reale e ci ho fatto un video ci ho fatto un video con una reazione a caldo a Ubuntu 24.04 VTS anche se la versione beta ormai in sviluppo il giorno 25 verrà rilasciata la versione stabile quindi manca davvero una settimana quindi non ci sono aggiunte di programmi e quant'altro ormai è tutto definito e vi dirò che mi sta piacendo mi sta piacendo un casino questo Ubuntu ho scritto anche probabilmente questa versione di Ubuntu Ubuntu 24.04 VTS verrà ricordata come una dei migliori Ubuntu di sempre io ci credo in questa cosa perché complice i kernel Linux che è aggiornato e i driver e quant'altro che offrono migliori in termini di velocità e quant'altro complice GNOME 46 che è maturato in termini di stabilità e quant'altro complice le estensioni che compongono Ubuntu desktop che ormai offrono un ambiente rodato collodato semplice e facile da utilizzare adesso addirittura è stato aggiunto anche il supporto al tiling delle finestre i quarti di finestra che mancava e quindi anche quest'altra cosa che hanno introdotto l'hanno fatto bene se due tiratine d'orecchie che mi sento di fare a .24.04 gts riguardo l'installer grafico nuovo che non è all'altezza diciamo del vecchio installer ma non è nemmeno all'altezza di calamares io avrei preferito che Canonical contribuisse allo sviluppo di calamares che lo integrasse all'interno della distribuzione però sapete bene come funziona con Linux si forca tutto si reinventa sempre la ruota è una cosa buona di Linux questa cosa perché crea attività però è una cosa che onestamente comunque andare mi sta dando un po' fastidio perché è anche uno dei punti a sfavore di Linux del software di Open Source in generale perché si tende a perdere tempo reinventando la ruota in alcuni casi che non è necessario sì ci sono delle criticità ben venga reinventare la ruota per migliorare però se c'è qualcosa che funziona già bene si può contribuire a quello Canonical poteva contribuire a calamares ma non è stato fatto l'altra tiratina d'orecchie riguarda la mancanza di un'applicazione pre-instagata per la gestione dei pacchetti in formato tab quindi sul mondo 24.04 LTS se vi scaricate il pacchetto tab di Google Chrome o se vi scaricate il pacchetto tab del driver della vostra stampa debrader come nel mio caso e lo volete installare facendoci doppio clic non ce lo potete fare dovete passare o dal terminale installare o dal terminale oppure dovete installare un applicativo per poter gestire in maniera grafica i pacchetti in formato tab forse l'hanno fatto per aumentare la sicurezza della distro in modo tale di installare pacchetti tab portati e quant'altro sulla distro non lo so fatto sta che comunque installare applicazioni come Chrome e altri browser web è una cosa che normalmente tutti quanti facciamo su Linux e che molti utenti alle prime anni si aspettano di poter fare in maniera semplice perché ti installo Linux e io voglio Chrome perché su Windows utilizzavo Chrome e come faccio? non ho preinstallato nessuna cosa per gestire e vanno nel pagone e inizio a dire che sta schifezza è canonica e ti ci mettevi preinstallato GDevio ci mettevi che ne so Eddy che è un programma fantastico nato su su Elementary OS come un applicativo che faceva parte dei progetti disoccupati della comunità per Elementary OS che poi è stato adottato da PopOS che è stato integrato come applicazione predefinita per l'installazione di pacchetti in tempo potevano fare una cosa del genere mettivi anche tu Canonical su Ubuntu Eddy se non vuoi utilizzare GDevio che è un po' vecchiotto graficamente parlando vabbè ma a parte questo vi ho detto la trovo davvero una buona distribuzione davvero ben fatto Canonica poi mi riservo il titolo di smentire ma è il primo bug che troverò che mi farà collessere il sistema però per adesso mi sta piacendo è stabile non ho trovato bug durante l'utilizzo e vabbè con questa ultima notizia si conclude qui questa 178esima puntata del podcast di Marcos Box io come sempre vi invito a seguirmi sui social Facebook X YouTube principali piattaforme di podcasting mi trovate sul mio profilo LinkedIn personale mi trovate su Mastodon ma soprattutto mi trovate su Telegram dove c'è un canale dedicato alle notizie di Marcos Box che potete utilizzare a modo di feed reader per restare sempre sintonizzati sull'ultima notizia trovate la community di Telegram dove potete commentare le notizie e non solo potete parcare di qualsiasi cosa c'è il cazzeggio libero e vi trovate il canale Telegram dedicato alle offerte Amazon che potete utilizzare per supportare il blog acquistante da uno dei miei link affiliazione i link affiliazioni di Marcos Box che trovate anche pubblicato sulle pagine del sito sarebbe Marcos Box trattino 21 se volete metterlo manualmente infine vi ricordo che potete supportare il blog anche acquistando rinnovando la vostra VPN su Node VPN che è il servizio VPN che ormai utilizzo da diverso tempo qui sotto vi lascio il link all'offerta del momento e vi invito nuovamente a seguirmi sulla pagina YouTube quello del pacco fatemi arrivare a 1000 iscritti per realizzare questo sogno di questo piccolo pinguino piccolo pinguino perché sono pingo per farmi per farmi guadagnare un po' più di visibilità sulla piattaforma dai dai ce la possiamo fare manca poco ormai ai miei iscritti datemi una mano lunga vita e prosperità a tutti quanti ci rivediamo la prossima settimana ci rascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box e ci sentiamo sulle pagine del blog ci leggiamo ciao ciao